G. Poviani è alla sua terza stagione al Milan. Viene nominato ufficialmente direttore tecnico, mentre per il ruolo di allenatore viene chiamato Luigi Bonizzoni. È un Milan determinato che vuole dimenticare le amnesie della stagione precedente in campionato. Lidon è il regista difensivo, mentre Schiaffino guida le manovre d'attacco. Dal Brasile, neocampione del mondo, arriva un giovanissimo attaccante di chiare origini italiane. Il suo nome è José Altafini. Basta poco al nuovo centravanti rosso-nero per entrare nel cuore dei tifosi. Segna spesso e volentieri e il Milan conquista il suo settimo scudetto, distanziando la Fiorentina di tre punti. E ancora una volta il reparto avanzato, l'arma in più dei rosso-neri. Sono 99 i gol realizzati nella stagione 58-59. José Altafini è il miglior realizzatore con 32 gol complessivi. Altafini è il miglior realizzatore con 32 gol per entrare nel cuore dei tifosi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.